Benvenuti a questo webinar dedicato all'innovazione digitale, come sempre. Questo è il ventiquattresimo webinar del ciclo dedicato all'innovazione digitale. Insomma, siamo partiti a novembre 2017 e siamo arrivati insomma al 24 webinar. Buongiorno, vedo che vi state collegando. Allora, il webinar di oggi è dedicato ai data center e al cloud, ovvero alle iniziative di razionalizzazione delle infrastrutture fisiche nella pubblica amministrazione che stanno avviando Agid insieme al Team per l'Italia Digitale. Oggi abbiamo con noi tre relatori, Giovanni Rellini-Lers dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Paolo De Rosa del Team per la trasformazione digitale e abbiamo una testimonianza della Corte dei Conti con Michele Melchionda. Come sempre approfitto di questi minuti iniziali per presentarvi questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale. Se cliccate su questo link potete visionare tutti i webinar che sono stati finora organizzati. I webinar sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agide Form S.p.A., Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo di questo ciclo di webinar è accompagnare la crescita digitale delle pubbliche amministrazioni e agevolare il lavoro, l'attuazione di quel percorso di trasformazione digitale che le pubbliche amministrazioni devono attuare. Quindi le nostre linee guida sono il codice per l'amministrazione digitale e il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Infatti se andiamo a vedere quello che è il modello strategico di evoluzione del sistema informativo dell'APA, il webinar di oggi si rappresenta un po' la base di questo piano strategico in quanto rappresenta proprio l'infrastruttura fisica su cui si basa tutto il resto, quindi su cui si basano i servizi digitali, le infrastrutture materiali, le piattaforme abilitanti. Quindi avere dei data center e dei servizi cloud e una connettività rappresentano proprio la condizione fondamentale affinché si attui poi quel percorso di digitalizzazione richiesto dalla normativa vigente. Quindi oggi parleremo delle azioni che si stanno attuando per razionalizzare le infrastrutture fisiche dell'APA e anche della creazione di un modello cloud per le pubbliche amministrazioni. Infatti tutto questo poi si ripercuote nell'erogazione dei servizi, quindi in una maggiore efficienza, in una maggiore sicurezza dei sistemi informatici e anche in un risparmio poi dei costi della pubblica amministrazione in quanto tutto questo piano di razionalizzazione ovviamente poi ha come risultato un'efficienza e una rapidità nell'erogazione dei servizi verso i cittadini e verso le imprese. Entrando nel merito del programma di oggi c'è stato un piccolo rivoluzionamento dell'ordine degli interventi, abbiamo come primo intervento il cloud dell'APA di Paolo De Rosa che si occupa di cloud e data center nel team per la trasformazione digitale, poi abbiamo l'esperienza della Corte dei Conti con Michele Melchionda, direttore generale dei servizi informativi automatizzati della Corte dei Conti e infine l'ultimo intervento sarà la razionalizzazione delle infrastrutture fisiche e il ruolo di Agid con Giovanni Rellini Lerz che appunto si occupa proprio di razionalizzazione delle risorse ICT nella PIA all'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Allora vi ricordo che potete porre alle domande ai relatori attraverso la chat, noi le selezioneremo, le porteremo ai relatori al termine del loro intervento, quindi fate pure le domande, siete invitati insomma a fare domande nella chat e vi ricordo che la registrazione di questo webinar e i materiali saranno pubblicati su Eventi IPA, quindi su questa pagina dedicata a questo evento, a questo seminario online, potete trovare i materiali e la registrazione nel pomeriggio. Benissimo, io direi che vedo che già siete 217 collegati, quindi un ottimo numero, attendiamo anche altri che probabilmente man mano si collegheranno, però direi di dare la parola al nostro primo relatore di oggi, Paolo De Rosa, del team per la trasformazione digitale. Grazie, ecco Paolo, benissimo, io ti do subito la parola per entrare nel merito del tema di oggi. Grazie a te, buongiorno a tutti, oggi parleremo un po' di quello che è stato il percorso, le attività che come team digitale abbiamo fatto nel costruire un modello cloud per la pubblica amministrazione, partendo da quelle che erano, quello che è allo stato, diciamo, delle infrastrutture prima della scrittura del piano trennale, dell'ultimo piano trennale. Io mi occupo, mi sono sempre occupato di infrastrutture IT, e per poter introdurre, diciamo, le attività che sono state fatte, ho bisogno di, diciamo, introdurre alcuni concetti. Infatti, questa è l'agenda di oggi, vorrei introdurre un po' cosa si intende per cloud, cosa ci riferiamo per cloud, senza fare un discorso particolarmente accademico, e poi invece cos'è il modello del cloud dell'APA, e quali sono i problemi che tenta di risolvere, cioè perché è necessario avere un modello cloud nella pubblica amministrazione. E infine, il percorso che, insieme ad Agile, stiamo costruendo, vorremmo costruire completamente in fase di definizione, per arrivare a, diciamo, a effettuare, a facilitare, diciamo, la pubblica amministrazione ad entrare, ad utilizzare il cloud, sfruttando appieno quelle che sono le sue potenzialità. Cosa è il cloud? Il cloud-com per cloud computing si intende un paradigma in cui l'erogazione delle infrastrutture consente di disporre la distanza su richiesta, mediante API, mediante, diciamo, programmaticamente, di un insieme di risorse di calcolo, archiviazione e connettività. Perché è così importante? Perché il concetto di consumo, cioè di consumo dinamico delle infrastrutture, e delle risorse, introduce un passaggio fondamentale di questo paradigma, che è quello del possiedo-uso. Cioè, mentre prima le infrastrutture, diciamo, vengono possedute, cioè io ho bisogno di un data center, ho bisogno di hardware, in questo caso non è più così, utilizziamo delle risorse virtuali e le paghiamo ad utilizzo. Quindi questo è un punto cruciale dell'introduzione del paradigma. Di cloud ce ne sono tanti. Ecco, io riporto la classificazione più semplice, giusto per riferirci durante questa chiacchierata a dei concetti molto astratti, però ben definiti. Per cloud, il cloud viene classificato in base agli aspetti che virtualizza, che astrae rispetto alle infrastrutture fisiche. Infatti, questo stack, questa pila, ci descrive un po' quella che è la visione logica delle astrazioni effettuate dal cloud. Cioè, abbiamo le infrastrutture fisiche che vengono poi astratte in infrastrutture virtuali, e si parla di infrastructure as a service, cioè l'infrastruttura tecnologica fisica e virtuale in grado di erogare risorse di compiti, networking e storage. E poi, più in alto nello stack, abbiamo invece le piattaforme, cioè tutti quegli ambienti di sviluppo in cui viene ulteriormente astratto il concetto di servizio, e quindi possiamo avere database as a service o monitoring as a service, cioè tutte quelle risorse che servono a più alto livello a sviluppare una vera e propria applicazione. Per, infine, arrivare a quelle che invece sono software as a service, che sono vere e proprie applicazioni fruibili tramite internet, e che vengono utilizzate quotidianamente. Questa suddivisione ci consente di andare a parlare un attimo di quelli che sono i vantaggi effettivi dell'utilizzo del cloud computing, e che sono riportati in questa slide, ovvero la forte riduzione dei costi e della complessità nella gestione delle infrastrutture, la facilità degli aggiornamenti, il supporto semplificato, la società del modello sicurezza e privacy. Ora, li vediamo un attimo nel dettaglio. Riduzione dei costi e della complessità. Se immaginate di dover costruire e di dover erogare un servizio partendo da zero, dovete pensare di acquisire uno spazio da dedicare a data center, acquisire hardware e costruire poi tutti i servizi che sono all'interno, quindi anche connettività, eccetera. Questo necessita un capacity planning importante, e con una visibilità anche a lungo termine, che ha una sua complessità, ha una notevole complessità. È necessario, in termini di bilancio e non solo, e anche di programmazione delle attività, strutturarlo su un ampio periodo. Il cloud questo lo supera, lo supera in che modo? Perché mi consente fondamentalmente di utilizzare delle risorse come se fossero delle utenze domestiche, cioè posso accedere alle stesse funzioni che mi darebbe un data center, ma come se fossero un servizio a consumo. La facilità degli aggiornamenti, non ho bisogno, vengono fatti generalmente dal fornitore. Il supporto viene semplificato, cioè se pensate negli ambienti in cui ci sono molti client, molti server, si parla di centinaia o migliaia di server, questa attività è onerosa per chi, anche il più piccolo aggiornamento di sistema operativo, diventa un'attività estremamente onerosa. Questo nel cloud viene semplificato anche sul lato client, perché viene consumato il cloud tramite i web browser. Questo semplifica tutta la parte di aggiornamento dei sistemi operativi e dei framework intorno. L'elasticità reale, posso partire con poche risorse per quelle che sono al mio servizio e allocarle dinamicamente con il passare del tempo, quando ne ho necessità, o eventualmente, se non dovessi avere più necessità, disallocare quelle risorse e comunque pagare sempre in base al consumo delle risorse. Ci sono dei punti anche di attenzione rispetto al cloud, non è chiaramente tutto così semplice e così migliorativo, ci sono degli aspetti a cui bisogna fare attenzione. In particolare bisogna avere estrema fiducia nel fornitore, il fornitore ci deve garantire che quello che io non sono in grado di fare all'interno del mio data center, perché è particolarmente oneroso e lui è in grado di farlo. Ci devono essere delle garanzie sulla sicurezza e la gestione della privacy da parte del fornitore e anche delle infrastrutture. Chiaramente, invece, dal lato di chi lo usa, è necessario un aggiornamento delle proprie competenze. Cioè, mentre prima ci si preoccupava di cambiare gli hard disk rotti, in questo caso bisogna capire come l'hard disk o il volume all'interno di una macchina virtuale va sostituito. Quindi ci sono dei piccoli cambiamenti che devono essere tenuti in considerazione perché ovviamente possono diventare dei problemi nell'utilizzo del cloud. Infine, nella pubblica amministrazione in particolare, non solo, anche nel privato, il procurement è un altro punto di attenzione, non sempre, anzi, quasi mai, è facile acquisire risorse cloud rispettando questo modello a consumo. Per dare un'idea e qualche numero su quelle che sono le dimensioni di cui stiamo parlando della totalità delle pubbliche amministrazioni in Italia, si parla di circa 14.000 amministrazioni. Attualmente sono censiti, o comunque si stima che siano esistenti all'incirca 11.000 data center su tutto il territorio nazionale o sedicenti tali, in alcuni casi non è sempre così, e 25.000 siti web, eccetera. È una situazione estremamente frammentata, estremamente complessa e chiaramente fonte anche di spreco, di inefficienze, alte inefficienze non solo economiche, ma anche di risorse lavorative, ma anche di sicurezza. Per questo, diciamo, questo è uno dei principali motivi che ci porta al passo successivo, a dire, ma se noi vedessimo una situazione del genere, come quella rappresentata nella slide qui presenta, e qui, una situazione del genere di fronte, diciamo, a nostra casa potrebbe essere particolarmente, diciamo, angosciante, è un po' quello che metaforicamente vediamo anche nella pubblica amministrazione da un punto di vista delle infrastrutture fisiche. Come si risolve questa situazione? O meglio, qual è uno dei passaggi con cui abbiamo pensato di facilitare un cambiamento per risolvere la situazione della frammentazione e dell'insicurezza delle infrastrutture attuali? Non di tutte, però ce ne sono molte che lo sono. È stato ideato un modello del cloud, della pubblica amministrazione, con un specifico obiettivo di, da un lato, garantire che alle pubbliche amministrazioni fosse fornito dei servizi che rispettassero dei requisiti minimi. Perché? Perché se da un lato, diciamo, dobbiamo razionalizzare le infrastrutture perché sono obsolete, perché sono insicure, perché non siamo, in molti casi, non siamo in grado di gestirle in maniera efficiente, dall'altro lato, se spostiamo queste infrastrutture al di fuori della pubblica amministrazione o comunque le diamo al di fuori in gestione, dobbiamo assicurarci che chi le prende in gestione sia almeno in grado di fare quello che vogliamo. Per questo sono state costruite due aree, quelle che vedete qui nella figura, che sono quelle dei servizi che abbiamo introdotto prima, delle tipologie di cloud che abbiamo introdotto prima, come vedete nella parte superiore, che sono i software e le applicazioni che si utilizzano in cloud, le piattaforme e le infrastrutture virtuali. Nel modello cloud abbiamo detto questi servizi per poter essere utilizzati devono avere un minimo di requisiti, per questo vengono definiti servizi qualificati, cioè Agida ha emesso due circolari che servono a descrivere quelli che sono i requisiti minimi per questa tipologia di servizi che possono essere erogati da pubblici o da privati, però in ogni caso entrambi devono rispettare questi requisiti e sono fondamentalmente requisiti di sicurezza, si parla dell'EISO 27001, ma lo vedremo più avanti. E allo stesso tempo le infrastrutture fisiche sottostanti ai servizi devono avere delle garanzie, ci devono dare le garanzie, anzi proprio queste sono quelle infrastrutture a cui ci dovremmo affidare e devono garantirci che la gestione, la sicurezza e l'efficienza di queste infrastrutture siano di un certo tipo. Come vedete esistono, sono tre colonne, queste tre colonne descrivono le tre tipologie che sono previste in questo modello che ora andremo ad esaminare nel dettaglio. Come dicevo prima, tutto il modello e i punti fondamentali di questa trasformazione sono riconducibili a tre documenti che sono il piano triennale che immagino conosciate bene, le circolari di Agile della circolare numero 2 e numero 3 del 2018 che introducono il concetto di queste due tipologie di qualificazione cioè delle infrastrutture e dei servizi e infine quella che è la strategia e il modello di cui stiamo parlando della pubblica amministrazione che sono pubblicate all'interno del sito cloud.italia.it Quali sono di cosa stiamo parlando? Giusto per fare una carrellata di quelli che sono i servizi di cui parliamo nei SaaS ci si parla di workflow documentale di protocollo knowledge base gestione delle presenze tutti i servizi che generalmente sono offerti sia da alcune pubbliche amministrazioni ma anche dal mercato e sono disponibili in varie modalità tutti quanti fruibili tramite internet però ci sono anche dei servizi centralizzati in questa categoria che sono NPR che sono la gestione delle CIE noi PA eccetera per invece i servizi gli asset pass cioè per la parte infrastrutturale di piattaforma stiamo parlando di database piattaforme di sviluppo macchine virtuali cioè scendiamo un po' di livello cioè andiamo più su una parte una parte un po' più tecnica e lo storage condiviso backup remoto e firewall infine abbiamo le infrastrutture qualificate quelle di cui parlavamo parlavamo prima queste infrastrutture ne esistono di tre tipologie nel modello del cloud dell'APA la prima di queste è stata introdotta da una di queste circolari ed è diciamo è definita come cloud service provider ovvero quei quei soggetti pubblici o privati che erogano servizi di tipo IaaS alle pubbliche amministrazioni questi soggetti devono essere qualificati per erogare quello che comunemente viene chiamato public cloud in italiano abbiamo questa contraddizione semantica nella parola ci riferiamo a public cloud tutto ciò che è erogato generalmente da privati verso chiunque mentre il pubblico ovviamente in italiano significa un'altra cosa però parliamo di grossi o piccoli medi provider che fondamentalmente erogano macchine virtuali tanto per capirci container as a service eccetera e questi questi csp devono essere qualificati dove per qualificazione si intende un processo in cui fondamentalmente autodichiarativo in cui vengono però validate alcuni aspetti fondamentali come quello per esempio sulla gestione della sicurezza ci sono alcuni standard che sono stati presi di riferimento che sono quelli dell'iso 27001 con l'estensione ai controlli per il cloud ISO 2700017 e 27018 viene presa in considerazione come viene fatta la gestione dei cambiamenti e delle configurazioni all'interno di questi cluster di provider e la gestione ovviamente anche degli incidenti del disaster recovery e come vengono affrontate le situazioni critiche diciamo quando avvengono all'interno della gestione di tutto il servizio l'altra cosa che richiedono ed è molto importante sono i parametri di servizio chiari e trasparenti cioè in realtà non viene richiesto nessun livello specifico di qualità a questi servizi viene chiesto che venga dichiarato quali sono i livelli di servizio che il servizio assicura come la disponibilità la disponibilità di servizio è importante per le pubbliche amministrazioni a nostro avviso che quando acquisisco un un servizio e questo sia sia chiaro nei termini poi posso decidere di acquisire un servizio che ha un livello per esempio di una disponibilità più alta o una disponibilità più bassa e io lo valuterò in fase di acquisizione se è quello che mi serve oppure no però l'importante è che esista una matrice di comparazione fra questi servizi il punto successivo è quello è il cloud spc immagino molti di voi lo conoscano si tratta di una gara concept fatta molto tempo fa infatti era il primo diciamo il primo modello nel piano trinale esistente perché è partito già nel 2012 e noi l'abbiamo classificato come community cloud perché pur essendo erogato da un privato che ha vinto la gara concept si rivolge a una comunità ristretta che è solo fatta di pubbliche amministrazioni è un modello diciamo di cloud un po' vecchio mi riferisco specialmente al fatto che l'utilizzo non è realmente a consumo però diciamo attualmente è uno dei pilastri del modello cloud perché è fondamentalmente anche il più disponibile in questa fase e infine ci sono i PSN poi gli strategici nazionali definiti sempre nell'ambito del piano triannale sono quelle strutture che verranno diciamo più approfonditamente descritte e costituite da parte del governo e sono quei data center di alta qualità diciamo particolarmente diciamo particolarmente orientate a servire asset strategici nazionali dove i livelli di servizio devono essere garantiti infatti un esempio che spesso riporto nel parlare di questa tipologia e quanto è stato fatto dal governo britannico in cui con l'iniziativa Crown Hosting Data Center ovvero il governo britannico ha deciso di utilizzare un numero ristretto di data center in una fattispecie sono 4 al momento che erogano servizi di tipo cloud esclusivamente per lo Stato ma soprattutto per servizi strategici specifici e questo è anche la previsione nel modello attuale dei PSN è abbastanza simile dove potranno essere visibili tutte queste risorse sia in termini di infrastrutture sia in termini di servizi qualificati nel modello ha definito una scatola che è chiamata cloud marketplace che al momento Agile sta sviluppando nella quale saranno disponibili tutti quei servizi che hanno superato la qualificazione cioè che si sono sottoposti alla procedura di qualificazione all'interno di questo marketplace le pubbliche amministrazioni potranno valutare selezionare tutti i servizi disponibili ed eventualmente decidere quale andare ad acquisire in funzione di quelle che sono le loro necessità a questo punto ci poniamo la domanda ma come come scelgo il cloud cioè quali sono i criteri con cui devo decidere se scegliere un servizio su un PSN oppure su un cloud service provider qual è la ragione che mi porta a fare una selezione beh innanzitutto di finalità cioè in base alla tipologia di dati e alle tipologie di infrastrutture e di informazioni che vengono trattate il PSN per esempio tratterà quei servizi che sono considerati asset strategie nazionali quindi NPR per esempio o la CIE cioè tutti quei servizi considerati strategici sia da un punto di vista della sicurezza sia da un punto di vista della funzionalità dovranno andare all'interno del PSN mentre tutto il resto esiste una regola fondamentale a nostro avviso un consiglio che possiamo dare che è quello di valutare le condizioni economiche o di vantaggio in generale nei confronti della pubblica amministrazione in questo caso il TCO cioè il calcolo del Total Cost Ownership cioè quanto mi costa una soluzione di un tipo rispetto a un altro nella sua complessità in genere questo calcolo è facile farlo tra le diverse tipologie eccetto situazioni particolari il risultato diciamo che si presenta maggiormente è quello del SAS infatti all'interno della strategia del modello cloud quello che viene suggerito è quando esiste quando è disponibile una soluzione SAS preferire quella perché chiaramente anche le altre soluzioni hanno un costo maggiore ma non è sempre così infatti la risposta è quella di procedere con il calcolo del TCO se si vuole essere precisi il censimento lo salto perché ne parlerà Giovanni Relini successivamente però per definire quali sono i PSN Agile Agile ha avviato un censimento che ha avuto termine e diciamo nelle prossime settimane verranno presentati i risultati e passiamo direttamente all'ultimo argomento che è quello come ci si arriva al cloud visto che mi è rimasto pochissimo tempo come ci si arriva cioè una volta che questo modello esiste che noi abbiamo deciso di chiudere tutte le infrastrutture diciamo obsolete è di muovere i nostri servizi da un vecchio data center che è sotto il nostro sottoscala come ci si muove cioè qual è la procedura cosa devo fare praticamente per dismettere un servizio che è su hardware e portarlo in cloud beh abbiamo iniziato a definire un percorso che abbiamo chiamato piano di abilitazione nazionale al cloud o cloud enablement come presentato in questa slide che definisce al momento soltanto un modello teorico ma sarà implementato e descritto nei dettagli successivamente da delle linee guida che verranno emesse da Agide e si e si descrive in maniera molto semplice come due entità che hanno il compito di al momento ripeto due entità stratte però sono due entità che hanno il compito di svolgere questo questo processo è un'entità di controllo che fondamentalmente controlla che tutti i processi di migrazione si stiano svolgendo e l'altra è un'unità di esecuzione cioè un'unità di esecuzione è un insieme di una serie di soggetti tra cui la pubblica amministrazione interessata soggetti terzi se sono necessari e in particolar modo quelli che abbiamo definito come centri di competenza ovvero tutte quelle pubbliche amministrazioni che già esistono sul territorio che svolgono che erogano servizi alla pubblica amministrazione di tipo IT e che sono un po' fondamentalmente i destinatari poi del processo di trasformazione perché non dimentichiamoci che migrare passare da hardware al cloud non significa smettere di amministrare di interessarsi del servizio anzi è il contrario cioè ci consente di risparmiare energie nella gestione delle infrastrutture che non è generalmente il compito della nostra pubblica e concentrarle invece nello sviluppo dei servizi per il cittadino quindi esiste tutta una fase di amministrazione aggiornamento sviluppo eccetera che viene affidata un po' o alla stessa amministrazione qualora avesse le risorse per farlo o ai centri di competenze che possono essere regioni in house eccetera cioè quei soggetti che sono in grado poi di gestire e amministrare dei sistemi complessi anche in cloud slide successiva questa è una diciamo una proiezione ideale di quelle che sono le attività che verranno diciamo svolte nel processo di cloud enablement cioè i gruppi definiti dal censimento si basano su quella che è la strategia cloud first cioè scegliere preferibilmente le soluzioni in cloud e se siano pubbliche o private per i nuovi servizi mentre la fase di migrazione il gruppo B deve migrare il prima possibile quello che viene definito nel gruppo A in maniera opportunistica in un arco all'incirca 5-7 anni cosa molto importante tutto questo modello impone un aggiornamento di tutti quanti cioè è necessario che le competenze all'interno della pubblica amministrazione vengano rinnovate perché le persone sono il fattore di abilitazione principale di questo cambiamento senza le persone senza la coscienza dei problemi e poi anche il know-how tecnico nello svolgimento di questa trasformazione sarebbe impossibile per questo abbiamo iniziato come abbiamo fatto per developers e per designers una piccola comunità che è chiamata DevOps in cui speriamo che le persone si confrontino e discutano dei problemi legati ai processi di trasformazione del cloud credo che sia stato in tempo anche se ho veramente compresso l'intera presentazione sì benissimo Paolo grazie per questo quadro che sicuramente ha chiarito un po' le azioni che state mettendo in campo su questo grande progetto molto ambizioso allora nel frattempo è arrivato qualche domanda per cui ti pongo le domande che sono arrivate allora la prima è se un SAS è qualificato deve avere già il suo CSP qualificato o l'APA deve fare dei contratti differenti scegliendo la soluzione migliore no attenzione il contratto è unico dal nostro punto di vista la pubblica amministrazione deve preoccupare di acquisire solo quello che gli interessa il cloud service provider è che fornisca un SAS o uno IAS deve preoccuparsi di utilizzare un CSP qualificato quindi non è la pubblica amministrazione per un cloud service provider è necessario utilizzare un CSP qualificato qualora si voglia erogare un SAS alle pubbliche amministrazioni quindi non è la pubblica amministrazione che si deve preoccupare se un SAS è all'interno del marketplace quel SAS certamente utilizza un CSP qualificato altrimenti non potrebbe essere lì benissimo grazie per il chiarimento allora poi Spiller chiede dove troviamo un elenco aggiornato dei CSP su cloud Italia cloud Italia punto it e c'è il link che rimanda al marketplace attualmente il marketplace esistente è diciamo un marketplace temporaneo perché Agit sta ancora sviluppando quello definitivo però esiste già un primo soggetto qualificato e il link si trova all'interno di cloud Italia ok un'altra domanda è basta una autocertificazione no una certificazione ISO per garantire la qualificazione di un asset così strategico o ci vogliono profili di carattere ingegneristico no 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 la ISO deve essere presentata nel caso soprattutto dei CSP dove la qualificazione è un po' più stringente cioè in quella parte infrastrutturale le certificazioni ISO non possono essere autocertificazioni ma deve essere presentata la certificazione dei rettori benissimo e poi chiedono quando si potrà accedere a un cloud SPC2 una domanda una domanda strana non so cosa si intende per cloud SPC2 a nostro avviso esiste già l'uno e va bene così nel senso nel modello in quel modello che abbiamo costruito esistono tutte e tre le tipologie di cloud possibili esiste il cloud privato che sono i PSN privato sempre con il gioco di parole che purtroppo non ci aiuta in inglese esiste il community cloud cui è SPC e poi esistono i cloud service provider che sono i soggetti che erano cloud pubblico non credo ci sarà o ci possa essere un SPC2 ok va bene io direi a questo punto per non rimanere troppo indietro sul programma di oggi di dare la parola ti ringrazio Paolo per il tuo intervento posso solo dire una cosa che non è utopia c'è chi l'ha fatto e parlerà dopo di me non è utopia passare a cloud ecco c'è chi l'ha fatto e chi l'ha fatto bene sicuramente ci vuole il tempo poi per attuare questo tipo di azioni insomma non è un lavoro facile appunto noi sempre diciamo invitiamo anche delle testimonianze dei testimoni della pubblica amministrazione che appunto sono delle best practice appunto di attuazione poi della digitalizzazione quindi ecco speriamo che che Michele Melchion appunto ci riporti un po' appunto alla realtà che qualcosa si può fare quindi grazie Paolo Michele a te la parola grazie eccomi qua buongiorno a tutti grazie a Michela per la presentazione grazie a Formez per questa opportunità di parlarvi un po' della nostra esperienza e fatemi spendere qualche secondo anche per chi mi ha preceduto e per chi mi seguirà che rappresentano ancora più di quello che io vi racconterò una best practice a tutti gli effetti di quello di cui stiamo parlando questa mattina insieme a voi in gran parte è stato possibile per persone come Paolo e tutto il team di Diego Piacentini con il quale ho avuto veramente la fortuna di poter lavorare quasi lungo tutto il loro intero percorso e che mettono a disposizione dell'APA ma dell'intero paese una serie di infrastrutture ancora prima che materiali concettuali che io vi invito francamente a valutare attentamente una per una tempo è poco quindi in qualche maniera parto proprio da una citazione secondo me la questione trasformazione digitale infrastrutture di un paese ha comunque a che fare con un atteggiamento complessivo che la pubblica amministrazione deve imparare ad avere e forse se devo cogliere un aspetto che vale la pena raccontare l'esperienza corse dei conti non è certamente quella tecnologica che potrà avere anche degli aspetti interessanti di cui vi parlerò ma è soprattutto quello che ci ha ispirato e ci ha ispirato molto questa citazione che vi porto qui fatta una frase di Diego piacentini al inizio del suo manifesto iniziale quando ci ha raccontato più o meno che cosa aveva in mente di fare noi abbiamo ritrovato in questa frase che vi invito a leggere un'ispirazione che di fatto ci aveva sempre accompagnato corte dei conti nonostante il suo aspetto istituzionale abbastanza distaccato fatemi dire per certi versi nell'ambito pubblico amministrazione è anche molto spesso percepito come tutti gli organi di controllo con una certa con un certo timore ha nel suo DNA un fortissimo spirito collaborativo ed è quello che ha ispirato l'intero percorso e che ha coinciso in totalmente con quello che il modello strategico di trasformazione digitale ci ha poi messo a disposizione vado dritto nel sodo allora e vi do una lettura di pezzi quindi non mi ripeterò chiaramente non vi spiego queste sono slide che già avete visto in parte presentate sia da Michela che da Paolo e probabilmente sulle quali ritornerà anche Giovanni dopo di me io proverò a raccontarvi una interpretazione che di questi strumenti e di queste informazioni un'amministrazione pubblica ha deciso di farle e la metto a vostra disposizione che quello che abbiamo francamente scoperto è che in aggiunta alla necessità di condivisione di infrastrutture materiali o immateriali che siano abbiamo scoperto che probabilmente la condivisione di esperienze e di competenze è da mettere almeno sullo stesso piano quindi primo consiglio questo che troverete davanti e che con molta fatica si sta costruendo il famoso cloud marketplace aggiungo anche io un commento a una delle domande che si è posta prima a Paolo cloud SPC1 cloud SPC2 sono parte di un percorso probabilmente anche questa serialità sulla quale ci ha abituato un po' la pubblica amministrazione nella sua organizzazione complessiva va progressivamente smontata la velocità con cui le infrastrutture e le tecnologie evolvono è molto difficile che prevedano un cloud SPC1 un cloud SPC2 o un cloud SPC3 ancora peggio probabilmente quello che seguirà cloud SPC sarà qualcosa di evoluto e profondamente diverso e che in questa slide voi già trovate io vi faccio un primo invito qui non è facilissimo mettere mano semplicemente all'equivalente di un catalogo Amazon di un cloud marketplace e il primo consiglio che vi do se non avete le idee molto chiare fatelo insieme a qualcun altro fatelo insieme a qualcun altro perché io non vi nascondo per esempio che soprattutto che quanto riguarda l'idea di continuare a erogare i servizi nella modalità in cui siamo stati abituati si commettono tantissimi errori molto spesso difficili da bloccare successivamente le qualificazioni di cui parlerà sicuramente Giovanni e che sono in corso a mio modestissimo avviso hanno probabilmente dei numeri superiori a quelli che sarebbe stato recito attendersi provo a spiegarmi il corte dei conti ha fatto nella sua esperienza e qui cominciate a contare di noi una scelta precisa non abbiamo in alcun modo presentato un progetto che individuasse corte come foro strategico nazionale per il semplice fatto che abbiamo determinato insieme ai vertici istituzionali della corte l'idea che il corte dei conti fosse più interessata a concentrare le sue competenze le sue forze i suoi sforzi sull'erogazione dei servizi potendo provare ad immaginare tutto il resto il più possibile sotto forma di commodity vediamo in che modo pensiamo in qualche modo di esserci anche in qualche modo riusciti qui fatemi giocare un po' c'è una citazione interessante che riporto spesso non ve la leggo tutta però la faccio a breve è tratta praticamente da un articolo di Cesare Lombroso che era uno psichiatra fino 800 inizio 900 pubblicata su una rivista letteraria londinese quindi non diciamo su un giornalino di quartiere dove praticamente era anche un appassionato di criminologia fa una descrizione in grosso modo di quelli che secondo lo stesso erano nuove forme di delitti più o meno evoluti e conclude tutto con questa frase che tutto quello che avevamo visto fino a quell'ora cioè rivoluzioni copernicane quali le ferrovie piuttosto che altro nulla erano al confronto questi nuovi congegni erano al confronto rispetto a questa clamorosa novità il biciclo che detta così sembra un po' una barzelletta ma riassume una cosa è un tema sul quale è bene non sottovalutare gli aspetti collaterali siete tantissimi tra l'altro ad ascoltare questo webinar è una cosa che mi fa molto piacere perché vuol dire che il tema è sentito preparatevi e soprattutto non sottovalutate il lavoro di diciamo di condivisione di quello che state facendo in termini di trasformazione delle vostre organizzazioni perché quel clima di diffidenza è un clima totalmente umano non è legato soltanto alla trasformazione digitale è collegato a qualunque forma di innovazione l'essere umano ha bisogno di digerire quello della trasformazione digitale incide profondamente su ogni aspetto della vita sia lavorativa che personale e ha la dose di resistenza che è lecito aspettarsi non ha neanche molto senso e questo è un altro degli aspetti che ci è piaciuto molto dell'atteggiamento complessivo del commissario digitale che ha accompagnato il team che ha lavorato molto di più sulla partecipazione convinta che non sull'imposizione è lo stesso ragionamento che dovete fare anche voi non è facilissimo andare a raccontare vedo che sono rappresentate tutte le dimensioni provenienze di pubbliche amministrazioni e ci sono fortissime professionalità immagino in ognuna delle vostre organizzazioni che per anni hanno erogato servizi sono occupati di data center hanno messo a disposizione le loro competenze relative all'hard al software ai sistemi operativi alla sicurezza e tutto quello che concerne l'erogazione di servizi a CT c'è un momento in cui dei cambiamenti avvengono l'ha detto benissimo Paolo e quindi le persone vanno accompagnate vanno accompagnate lungo una evoluzione anche della competenza e dei temi che loro stessi devono affrontare perché questa operazione è necessaria io qui vi ho solo riportato quello che ciascuna organizzazione da sola è chiamata a prendere in considerazione a prescindere dalla sua dimensione è oggettivamente impossibile cioè nel senso se immaginiamo che il comune di 5.000 abitanti così come il comune di Roma di 4 milioni e passa di abitanti o qualunque altra struttura pubblica possa essere in grado di seguire avere le competenze ma non dico neanche per realizzarle semplicemente per effettuare scelte nell'ambito di tutti questi temi dobbiamo ammettere che probabilmente ne stiamo affrontando il tema in maniera bellegaria di qui l'approccio che noi abbiamo immaginato e che ci ha cominciato a spingere fortemente verso una scelta molto forte in corte dei conti ha adottato tecnologie cloud ormai da circa 5 anni in anticipo anche rispetto alla messa a disposizione di cloud SFC e l'ha fatto esattamente sulla base di valutazioni prima ancora che tecniche anche manageriali anche di capacità di governance applicabile su quei temi molti sono scontati ve l'hanno detto un miliardo di volte ma io vi invito a fare processi di valutazione specifici investimenti iniziali superati c'è una sicura e maggiore flessibilità nei nell'adozione e nei tentativi di adozione cosa che invece è molto più rigida in tutte le altre modalità si può far ricorso a prototipi con una maniera ricorrente i modelli di prezzo sono scalabili per cui potete fare sicuramente una serie di tentativi con dimensioni piccole per poi crescere si può essere molto aiutati nella verifica di compliance perché molto spesso questi servizi vengono accompagnati da certificazioni e compliance direttamente connessi al servizio che si acquista non credo non credo che faccia sorridere più nessuno dire che in questa modalità fate parte anche di un approccio green complessivo perché ovviamente la scalabilità di questi servizi ha un effetto anche sui consumi energetici non vi occupate di procedura di smaltimento e soprattutto e questo è uno dei temi che tengo di più vi invito a fare dei benchmark sui vostri attuali livelli di sicurezza e quelli che ottenete invece in momenti di evoluzione verso il cloud brevemente allora si fa un'operazione che sostanzialmente vi porta a questo a me piace molto questa slide sostanzialmente buttate giù sotto i vostri piedi tutta una serie di questioni che in genere la maturità dei servizi in generale fa sì che ciò accada la mia età mi fa fare esempi che spesso portano non so che giovanissimo per cui diciamo nel tempo avvengono delle cose quasi senza che noi ce ne accorgiamo e il vedere i data center il cloud computing la connettività come base di riferimento scontata per concentrarci sulle cose che ci veramente interessano le vostre organizzazioni e credetemi io sono certo di questo per una pubblica amministrazione ma direi in senso steso anche per un'azienda per qualsiasi organizzazione la parte sotto il ponte qui è soltanto strumentale quello che vi interessa è quello che ci sta su è esattamente servizi e dati è questa l'evoluzione sulla quale dobbiamo spostarci spostarci su questa evoluzione significa non perder tempo sulla parte che sta sotto se qualcuno questa parte l'ha messa a disposizione Agid in digitale e tutti quelli che ci stanno lavorando lo stanno facendo egregiamente vi spingo a non prendere per buono niente di quello che vi si sta dicendo ma a fare delle vostre valutazioni comparative e se l'effetto come nel caso di Corte dei Conti è stato quello di valutare in maniera molto onesta e consapevole che quello che noi da soli saremmo stati in grado di fare non era equivalente quindi non ci siamo accontentati quello che noi eravamo in grado di fare e passavamo per essere un'amministrazione abbastanza efficiente in questo senso con un'adozione dei servizi innovativi di provenienza cloud noi siamo riusciti ad accelerare ulteriormente a aumentare la qualità spendere meno e concentrarci su dati e servizi questo è stato il vero scopo sul quale abbiamo lavorato per tempo vado un po' più veloce per dirvi le infrastrutture ICT di un paese questo lo ripeto molto spesso sono l'equivalente di quello che negli anni 60 hanno costituito per l'Italia le autostrade non è un gioco per ragazzi non tutti potrebbero fare l'autostrada non tutti possono occuparsi di infrastrutture tutti possono usare e tutti debbano avere la possibilità di utilizzare l'autostrada è giusto che questo paese si concentri sul metterle a disposizione ma prima valutazione che dovete fare è avete bisogno di un'autostrada o siete persone che devono costruire l'autostrada quelli che fanno le autostrade sono davvero pochi rispetto a quelli che le utilizzano e l'ultima riga è fondamentale i dati non sono importanti in questa nostra attività i dati sono l'unica cosa che conta per cui concentratemi su quello la vera caratterizzazione della vostra attività è produrre dati puliti open disponibili che entrino in ecosistemi di condivisione con altre organizzazioni velocemente che cosa ha fatto porte allora un processo di trasformazione è un percorso abbastanza complicato caratterizzazione primaria che è quella che forse fa sì che il corte dei conti viene spesso citata quelli che vedete in azzurro qui sotto sono solo una parte ne abbiamo molti di più delle collaborazioni attive attive cioè vuol dire che sono state fatte sono state lasciate in piedi da più di tre alcune anche cinque anni Cnel Sogei Lepida Cedecu La Sapienza Avvocatura dello Stato Cineca è un DNA costitutivo con loro in alcuni casi abbiamo ceduto in altri casi abbiamo preso Avvocatura dello Stato e Cnel non hanno più né Data Center ma questo è stato fatto addirittura 4-5 anni fa ma non hanno più i sistemi di conduzione li abbiamo insieme Corte dei Conti Cnel Avvocatura e la stessa Corte dei Conti non ce li ha più perché se li fa fare da un'azienda credetemi non è stata fatta una questione di benchmark se domani viene fuori qualcuno che lo fa meglio siamo prontissimi a cambiare e a posizionarci diversamente quello che sta funzionando è il modello per cui il modello ci mette in una condizione di condivisione che prima non era neanche pensabile Avvocatura dello Stato e Corte dei Conti usano pezzi insieme il Cnel usa un'istanza del nostro protocollo e tutto questo non ci spaventa questo è un invito che veramente vi faccio questo percorso che sembra una sorta di percorso di una metropolitana nasconde un lavoro di quasi dieci anni in cui per ognuno di questi passaggi noi abbiamo dei template che abbiamo messo a disposizione e delle procedure da attuare che sono un po' simili a quel cloud di cui ha parlato Paolo non si inventa nulla il processo di trasformazione è un processo molto difficile molto specialistico che dovete fare insieme a qualcuno che di quei temi ha la giusta competenza solo rapidamente ognuno di voi che sta affrontando questi temi suddivida almeno in tre aree l'eventuale processo di trasformazione deve affrontarlo da un punto di vista fisico deve affrontarlo da un punto di vista logico deve affrontarlo da un punto di vista applicativo questi passaggi hanno dei passaggi precisi bisogna creare aree passaggi di coesistenza dove progettate alcuni aspetti le remediation preparatorie a poter fare le fasi successive le integrazioni e quelle di migrazione sono processi estremamente complessi che vanno preparati e questi non cambiano a prescindere che utilizziate cloud spc piuttosto che i csp che io mi auspico diventino sempre di più e entrino nella fase diciamo di utilizzo immediato insisto quella che ci interessa è la parte finale se riuscite a far prendere meno tempo possibile a tutto quello che riguardava la parte sotto il ponte e vi concentrate sul servizio e sull'applicazione siete vicino ad aver fatto una buona un buon percorso guardatevi intorno se ci sono organizzazioni che sono in grado di darvi una mano se siete enti locali molto spesso avete delle in house se siete amministrazioni più piccole vi può capitare la corte dei conti ma ce ne saranno tante altre c'è Inail c'è IMS ci sono tante organizzazioni che sui territori o centralmente aiutano in questi processi non abbiatene timore non sparisce nulla anche questo ha detto bene Paolo aumentare il livello di efficienza può consentire contemporaneamente di aumentare la vostra capacità di governo e questo significa controllare maggiormente non perdere il controllo abbiamo dato in dotazione a chi con noi ha lavorato anche un testo che poi abbiamo arricchito di volte e morto sempre di più che abbiamo chiamato piano regolatore digitale è una provocazione nel senso che siamo tutti abituati al piano regolatore riferito all'urbanizzazione di una città ma per esempio sul digitale ci sentiamo tutti nella libertà di poterci fare una palafitta a Villa Panfili e ovviamente tutto ciò ahimè va in qualche maniera reso chiaro che è sbagliato e secondo noi con un piano regolatore che non ha nessun valore dal punto di vista normativo ma che ha un valore di indirizzo una moral suasion vi assicuro che tutte le organizzazioni che hanno lavorato con noi hanno preso atto completamente di tutto quello che conteneva salto delle slide tanto saranno tutte quante per voi a disposizione ma c'è una cosa che vi voglio far vedere e che vi invito a leggere che è questa sul sito della corte trovate una pubblicazione che si chiama diversamente connessi tra l'altro un lavoro che abbiamo fatto insieme al team digitale e che parla di che cosa dovete fare e qui riporto un po' perché SPC e in certi versi qualcosa che deve evolvere quando approccerete il cloud voi dovete prepararvi a un modello di connettività che è diverso le reti che prevedeva SPC erano delle reti cosiddette a centro stella dove sostanzialmente si immaginava n punti di erogazione dei servizi e le sedi le varie diciamo componenti organizzative che puntavano a questo centro stella da dove i servizi sono erogati oggi i servizi per lo più sono posizionati in una modalità diversa vi faccio dire direttamente uno schema che questo lo chiarisce gran parte di questi servizi sono posizionati su internet e potenzialmente sempre di più lo saranno nel momento in cui utilizzeremo il cloud troveremo tutti quanti una cosa di questo genere avere una struttura per cui una sede remota prima di utilizzare i servizi passa attraverso una connessione costosa prima di arrivare ai servizi pensiamo sia una cosa sbagliata abbiamo pubblicato e messo a disposizione delle amministrazioni anche che hanno una somiglianza con questo schema un'alternativa a questa logica che prevede l'utilizzo tecnicamente definita internet breakout che prevede concettualmente un'architettura organizzata per componenti di data center e componenti di branch office che altera completamente questo disegno l'effetto è interessante perché ha effetti importanti sia su aspetti economici sia sulle prestazioni della connettività sia sull'indipendenza dai provider attenzione questo non è banale quindi cambia completamente la vostra capacità di governo di questi aspetti e vi mette in una condizione di aderire realmente ai fabbisogni di cui la vostra organizzazione necessita sono arrivato anch'io alla fine passo di nuovo a Michela per sapere se ci sono domande direi che più o meno con una certa velocità sono stato nel tema grazie mille Michele per la concretezza e anche per i consigli insomma anche strategici che hai dato penso a questa platea penso che ci hai lasciato tutti senza parole perché appunto la chat è stata molto silente quindi ti ringrazio molto per questo intervento mi dispiace anche che sei dovuto stare appunto a saltare delle slide che magari erano comunque importanti ma i tempi dei webinar purtroppo sono questi comunque saranno a disposizione anche le slide per tutti allora visto che non sono arrivate domande per il momento direi di dare la parola subito a Giovanni Rellini Lerse dell'Agida cui chiedo di attivare nel frattempo microfono e webcam e se arrivano domande nel frattempo magari le vediamo alla fine gli ultimi dieci minuti del webinar va bene Michele grazie mille allora do la parola a Giovanni Rellini Lerse della presentazione appunto da parte di Agid buongiorno buongiorno a tutti quelli che stanno partecipando a questo webinar so che è molto partecipato mi scuso per avere purtroppo dovuto richiedere all'organizzatore di questo evento uno spostamento dell'orario del mio intervento questo è dovuto al fatto che l'orario preventivato coincideva con l'incontro che abbiamo che ho insieme ai miei colleghi appena avuto con il nuovo direttore dell'Agida la dottoressa Alvaro e devo dire che peraltro io conoscevo già la dottoressa Alvaro almeno professionalmente quindi non avevo bisogno di avere grandi conferme però se ce ne fosse stato bisogno abbiamo tutti avuto la conferma che effettivamente la guida dell'Agid ha le idee molto chiare molto determinate molto nelle direzioni delle poche cose che sono riuscito a sentire io avevo preparato una una presentazione che in realtà rischia di essere in parte un duplicato di quella che vi è stata fatta in modo molto più adeguato diciamo più completo dall'ingegner Paolo De Rosa con il quale peraltro in questi mesi a cominciare dall'inizio dell'anno da quando ho preso la responsabilità di questo servizio all'interno dell'Agida abbiamo collaborato direi in modo più che stretto io cercherò di ripercorrere perché bene o male questa presentazione esiste però vorrei fare alcune osservazioni ho sentito il parte dell'intervento bellissimo di Michele con Michele ci conosciamo da molti anni ho scoperto tante cose belle della Corte dei Conti che mia colpa non conoscevo che sono a disposizione veicolerò questo naturalmente con la modestia della mia posizione insomma ben altri livelli lo faranno più adeguatamente all'interno nostro però devo dire questo che esattamente come pochi mesi fa a un intervento del forum PA ho avuto l'impressione di movimenti che avvengono all'interno delle pubbliche amministrazioni egregi non ce ne sono molti quindi considerate veramente quello della Corte dei Conti veramente un centro di eccellenza per tanti versi ma dei movimenti che difettano e nel dire difettano non è una colpa che sto rivolgendo alle pubbliche amministrazioni o diciamo comunque anche al mercato perché è un pochino difficile distinguere per certi versi e quindi separare in modo verticale la componente pubblica amministrazione e la componente mercato come parliamo di team particolare forse anche in altri settori dell'economia di cose buone naturalmente qui stavamo parlando della Corte dei Conti ma comunque ne esistono degli altri pochi ma ne esistono degli altri che però mi danno una visione come ripeto ebbi pochi mesi fa in occasione del forum PA molto diciamo così di di entità che procedono autonomamente su percorsi egregi su percorsi condivisibili con risultati molto apprezzabili che possono sicuramente essere d'esempio per altri contesti ma in una situazione che è un po' diciamo così la negazione di concetti di rete ci sono queste isole ci sono situazioni purtroppo sono le più comuni abbastanza legate a visioni tradizionali a insufficienza anche di conoscenze di consapevolezza di tante situazioni che sono in evoluzione e questo non è una critica che sto rivolgendo a queste tanto meno a questi centri di eccellenza però in realtà sta a indicare un ruolo dell'ente al quale io appartengo che deve essere evidentemente rilanciato e che evidentemente sino ad oggi non è stato efficace e presente come avrebbe dovuto essere io ripeterò ripeto ripeterò ripeto scusate ridirò alcune cose che avete già sentito penso anche esposte meglio di quanto faccio io dall'ingegnere De Rosa e questi sono il nostro contesto normativo quello che posso aggiungere quindi sicuramente avete sentito la parte della della visione che condivido totalmente e che credo oggi l'Agid condivida totalmente del cloud nella PIA come punto di caduta dell'informatica pubblica non è stato facile acquisire per noi anche da parte di chi vi parla non è stato facile acquisire questo principio ma devo dire che una volta che ne abbiamo capito la portata ne abbiamo capito l'importanza e questo bisogna riconoscere al team digitale di averci veramente aiutato in qualche intervista al dottor Piacentini e qualcuno di noi l'aveva presa male è stato detto abbiamo un po' insegnato anche all'Agid e abbiamo aiutato anche all'Agid ad avere consapevole di certe cose e le parole sono esattamente corrette e condivisibili e questo è il primo momento assolutamente fondamentale è inutile che vi ho molti degli elementi di queste slide li avete già visti quindi io ne vi voglio tediare con queste voglio arrivare quindi a uno dei due aspetti per l'altro fatemi fare una premessa nella nostra visione del piano triennale credo che molti di voi lo conoscano mi auguro molti di voi lo conoscano le infrastrutture insieme al cloud e ovviamente alla connettività sono quelle che sono chiamate le infrastrutture materiali globalmente la parola materiale dà l'idea di qualcosa di molto metallico di molto edile di molto fisico in realtà ancora una consapevolezza piena che invece il cloud è sì parente e ha come componente le infrastrutture materiali ma è un elemento che mi riferisco alla visione che è prospettata nel nostro triennale che verrà riproposta anche almeno nel prossimo triennale che ha una dignità secondo me secondo molti di noi ormai pari a quella che ha la sicurezza quindi ha una funzione assolutamente verticale non può essere ristretta a un qualche cosa che realizza le infrastrutture materiali ma è ben di più e questo poi si riallaccia dirò riprenderò il discorso delle qualificazioni che già vi è stato immagino molto ben illustrato da Paolo De Rosa per ribadire questo concetto qui invece abbiamo qualche accenno all'aspetto del censimento ai patrimoni CT allora su questo vorrei fare qualche considerazione quando lessi la nostra circolare 5 2017 mi ricordo che di Polistrategici Nazionali già si parlava anche prima che questo scatenò una sorta di ansia di arrivare a questo traguardo e quindi molte amministrazioni alcune delle quali oggettivamente con grande difficoltà ad essere poter diventare Polo Strategico Nazionale mi chiamavano e mi dicevano Giovanni come faccio a diventare Polo Strategico Nazionale non come faccio a verificare a utilizzare per esempio il censimento che ci sarebbe stato come un momento di assessment perché forse il primo raggiunto del censimento è stato proprio quello ha obbligato le amministrazioni che hanno partecipato a guardarsi alla consapevolezza sul fatto dei Poli Strategici Nazionali dico subito che i discorsi saranno sicuramente approfonditi sono un percorso che comunque deve essere precisato basti dire che nel piano triennale del 2018 2020 si dava tra gli attributi dei Poli Strategici Nazionali il fatto di essere considerate infrastrutture critiche credo che molti di voi sappiano che in realtà esiste un'entità dello Stato che è il Ministero dell'Interno e in particolare è la Polizia di Stato alle quali è devoluta questa funzione anche formale in base a una legge del 2005 di attribuire questo tipo di caratteristica che si porta dietro varie cose e quindi il discorso del Polio Strategico Nazionale è un discorso che vi dico subito stiamo riprendendo e stiamo approfondendo ciò nottante noi comunque abbiamo condotto già due serie di interventi di censimento un primo è stato fatto a cavallo tra il 2017 e il 2018 ha riguardato le regioni e le in-house forse abbiamo anche fatto così non voglio dire uno sbaglio ma insomma un'ingenuità nel considerare le regioni come separata da in-house in realtà vi posso garantire io riconosco abbastanza bene il territorio informatico delle regioni laddove è presente un in-house questa distinzione è molto difficilmente percepibile quindi quando si parla di un sistema informativo bisogna sicuramente raccogliere i dati del sistema informativo della in-house laddove questo esiste non tutte le regioni ovviamente si avvalgono alcune regioni ormai minoritarie devo dire hanno una gestione diretta del proprio sistema informativo qui è inutile che li commenti e semmai c'è un commento da fare su questi risultati non è che abbiamo raccolto tantissima partecipazione in questo censimento in questi due censimenti il primo era bloccato su tipi precisi questo tipo preciso di amministrazione che erano le regioni e le città metropolitane tra l'altro le città metropolitane come molti di voi sanno credo spero anzi che tutti sappiano sono delle realtà che derivano dalle vecchie province quindi magari i sistemi informativi delle città metropolitane ora stanno cominciando a diventare effettivamente il sistema informativo dell'intero territorio e il secondo invece che era nelle intenzioni rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni non ha avuto una grandissima partecipazione naturalmente noi però abbiamo raccolto molti dati molti dati che ci permettono anche di fare delle proiezioni siamo elaborandoli ecco perché qui non trovate il risponso di quello che è previsto dall'articolo 2 della circolare 5 2017 che tratta proprio del censimento le stiamo elaborando stiamo cercando abbiamo un percorso che prevede anche alcune integrazioni di elementi che forse ci siamo dimenticati di definire prima voi sapete che in questa classificazione non solo esistono i poli strategici nazionali e le cosiddette amministrazioni dal punto di vista infrastrutturale di gruppo B cioè tutte quelle amministrazioni che comunque sono destinate sarebbero destinate e il condizionale poi magari lo spiego facendo qualche ulteriore considerazione destinate a immediatamente concluire in gerarchie superiori ma abbiamo anche le amministrazioni di gruppo A allora queste amministrazioni di gruppo A sono destinate secondo un percorso più o meno lungo sperabilmente non troppo lungo ma certamente non immediato a loro volta a concluire in entità di livello superiore però mettendo insieme quello che vi ho detto sui poli strategici nazionali e mettendo insieme anche quello che potete vedere come risultati è chiaro che un'attenzione e una focalizzazione siano un altro una definizione più puntuale delle amministrazioni di gruppo A si è resa necessaria questa non era così chiara precedentemente e questo ancora non è diciamo l'abbiamo preparata da mesi tra l'altro anche questa in perfetta collaborazione col team digitale verrà pubblicata naturalmente alcune evidenze che sarebbero già state rese pubbliche e alcuni percorsi ulteriori rispetto a questa operazione di censimento a queste operazioni di censimento che sarebbero già state rese pubbliche e ovviamente ci siamo trovati nella necessità di condividerle col nuovo direttore mi sembra più che comprensibile questo tipo di atteggiamento comunque il nuovo direttore ripeto ribadisco è persona assolutamente capace con grande esperienza e credo che molto velocemente sarà in grado di darci le indicazioni che a suo avviso sono quelle più opportune per procedere vi dico subito una cosa che personalmente sono anche portato in questo credo troverò il dissenso anche di qualche amico che magari mi sta ascoltando sono mai portato a tentare almeno cioè a fare più che tentare una terzo rilancio di raccolta di dati questa volta magari diciamo organizzato anche dal punto di vista comunicativo partecipativo di condivisione magari un pochino meglio di come avevamo fatto in passato per cercare comunque di dare veramente di avere di acquisire un insieme di dati quanto più significativi qui poi le slide le avrete a disposizione c'è anche la modalità di contatto eccetera eccetera sui poli strategici nazionali avendovi detto quello che vi ho detto prima voi capite bene che sì possiamo parlare di qualificazione per quello che era previsto nel circolare però sono diciamo una questione aperta ecco è inutile cercare di girarci intorno sulle qualificazioni ecco questo è abbastanza interessante naturalmente Paolo sicuramente vi ha dettagliato in un modo io vi so come ho detto prima la sua presentazione la sua presentazione è molto molto buona molto precisa lievemente ottimistica se Paolo mi permette insomma c'è una visione già di un'acquisizione di percorso di qualificazione che insomma stiamo cominciando in questo momento ad avere e questo è un tema importantissimo che certamente dobbiamo mettere insieme ovviamente agli altri e agli altri che non riguardano esclusivamente il campo di cui io mi occupo che è quello della razionalizzazione delle risorse ICT all'attenzione del nuovo direttore perché e questo sì mi ripeto rispetto al forum PA di qualche mese mi chiede rappresenta quindi se lo ricorderà noi stiamo notando un certo turpore nell'acquisire questo processo di qualificazione oggettivamente con un certo stupore da parte mia stiamo rilevando qualche difficoltà anche imprevista da parte di grossi provider nel dover sottoscrivere i requisiti peraltro non mi sembrano proibitivi noi abbiamo fatto un lungo percorso come aveva detto l'ingegneria Rosa di consultazione l'abbiamo anche prolungata abbiamo sicuramente modellato la versione finale dei circolari che hanno fatto scaturire e che guidano questo processo nel modo più cercando di tenere massimamente conto e questo però continua un pochettino a stupirmi oddio se fossi maligno visto che io lavoro da 17 anni proprio ieri ho compiuto il 17esimo anno di presenza primi in AIPAC NIPA e di GTPA dovrei dire che forse non sono molto stupito insomma c'è un problema effettivamente di governance da parte delle forniture precedentemente a questo incarico io mi sono occupato di monitoraggio dei contratti ICT della pubblica amministrazione ma anche in quel caso non è che mi sono sorpreso di trovare certe situazioni dobbiamo aiutare come agito moltissimo le pubbliche amministrazioni ad essere il più possibile padrone usiamo la parola governance vogliamo usare la parola governance usiamola ma comunque ad avere il governo su questo quindi diciamo che sarà necessario forse rilanciare anche la comunicazione e comunque a mio avviso questo è un percorso ineludibile mi rendo conto che ci sono delle situazioni tradizionali ereditarie che sono lontane non voglio dire anni luce ma quasi da una visione di punto di caduta del cloud nella pubblica amministrazione ma certamente è un percorso che con tutto il sostegno che noi come Agid dovremo dare e possiamo dare dovrà essere assolutamente sollecitato alle pubbliche amministrazioni e se le qualificazioni sono rivolte ai fornitori in realtà faccio questo discorso perché poi è alle pubbliche amministrazioni che chiedo anche di ricordare ai fornitori l'esigenza di per certi versi passatemi questo termine adattarsi a questa realtà e a questi percorsi e quindi di collaborare e di di essere di esserci vicini e di essere soprattutto partecipi a questo tipo di percorso noi siamo assolutamente chi mi conosce fornitori pubbliche amministrazioni sanno benissimo che noi siamo assolutamente aperti collaborativi pronti ad aiutare su qualunque fronte e in qualunque momento però devo ripeto anche accogliere questa occasione per sollicitare a un po' più di vivezza e di ricercarci dove si trovino dei dubbi e delle perplessità dei percorsi che noi stiamo cercando di attuare che è nostro compito cercare di portare al migliore dei risultati possibili vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente io sono disponibilissimo a ogni domanda e ogni interlocuzione ho terminato il mio intervento quindi sono credo nei tempi anzi anche qualche minuto in meno vero Michela? sì sì benissimo grazie mille allora è arrivata qualche domanda diciamo un po' il problema che emerge è quello degli investimenti che sono dei problemi insomma delle risorse economiche infatti Maurizio Manzi per esempio chiede siamo un'amministrazione tipo B qual è il percorso suggerito in attesa del PSN dal momento che nuovi investimenti in infrastrutture non sono consentiti allora innanzitutto cerchiamo di focalizzare e anche di spiegare ripeto purtroppo non ho sentito l'intervento di Paolo ma credo che Paolo abbia chiarito molto bene questo punto forse anche altri relatori questa posizione di essere molto rigidi che parte dal circolare 2 del 2016 è stata ribattita nel piano triennale è stata ribadita nella circolare 5 del 2017 di frenare di bloccare un'espansione che vi posso garantire in molti casi era illogica non voglio dire illimitata ma in molti casi illogica parlo per esperienza diretta di alcune situazioni negli investimenti infrastrutturali nasce ovviamente da un'intenzione di diciamo così di aggressione nei confronti o di limitazione della libertà nasce dal fatto che effettivamente deve essere definito un percorso di aggregazioni successive ecco io mi esprimo in questi termini quindi non voglio dire immediatamente passaggio al gruppo I che finiscono le PSN eccetera però io voglio anche ricordare che ci sono questo non impedisce che di fronte a delle situazioni di rischio di continuità dei servizi di rischio per la sicurezza delle proprie infrastrutture previa teoricamente e praticamente non posso dire teoricamente un passaggio da noi se ne occupa un altro direttamente proprio il mio servizio l'evidenza di questa situazione può benissimo portare a liberare l'amministrazione da questo vincolo certamente come mi è capitato anche recentissimamente sto parlando di questi giorni che un'amministrazione mi venga a chiedere un parere o addirittura una sorta di valutazione per farsi ex novo un intero data center sinceramente la mia posizione è quella di dire questa non è materia nostra naturalmente un'amministrazione può fare esattamente tutto quello che vuole ma non arriverà da noi un appoggio a questa iniziativa a meno che questa iniziativa venga ribaltata io voglio fare il cloud del mio territorio prevedo quindi questo tipo di percorso in questo tipo di percorso posso anche pensare ad avere certe infrastrutture però l'infrastruttura esisa è qualche cosa che certamente noi cercheremo di se posso sì ciao Giovanni se posso se posso aggiungo aggiungo un piccolo pensiero a quanto hai detto cioè che è corretto quanto dici io differenzierei due tipologie di interventi un conto è mantenere un servizio attivo e quindi si tratta di attività di manutenzione attenzione quelle non sono bloccate attualmente da nulla si tratta invece degli investimenti ex novo comunque investimenti nuove infrastrutture quelli si sono bloccati e i finanziamenti non ci sono le finanze specifici ma quello che io avrei speso avrei investito nell'acquisto di nuovo hardware quello che viene detto nel percorso è anziché investire il nuovo hardware lo investiamo seguendo la strategia cloud first cioè valutiamo prima le altre alternative perché sicuramente le soluzioni cloud qualunque se siano sono più convenienti del costruire ex novo qualcosa che è fisico benissimo grazie Paolo per questo intervento sono arrivati anche appunto delle domande sui poli strategici nazionali non so visto che allora sono queste te le pongo poi vediamo se riusciamo a dare una risposta quali sono i tempi di attivazione dei PSN rispetto a quanto indicato nel piano triennale e quando saranno noti i risultati delle candidature a PSN allora mi ci vorrebbe la sfera di cristallo come vi ho detto abbiamo bisogno di una spero rapidissimo confronto interno con il nuovo direttore credo che sia più che comprensibile il fatto che arrivi un nuovo direttore il quale per la terza volta ribadisco perché sono fresco del suo intervento ha delle idee chiarissime ha una visione estremamente limpida precisa determinata quindi non credo proprio che ci sarà bisogno di un eccesso di lucubrazione per arrivare ad avere dal direttore le indicazioni appropriate in questo momento è inutile che cerchi di dare una risposta la risposta non c'è non posso dire al primo dicembre del 2018 saranno rese pubblici certamente tra le attività susseguenti a questo censimento oltre quella di integrare diciamo così non voglio dire migliorare ma insomma meglio precisare alcune definizioni che aiutano alla categorizzazione che seguirà noi abbiamo già predisposto un piano di informativa a tutte le amministrazioni che hanno partecipato con la possibilità questo peraltro lo prevede proprio anche la circolare 5 del 2017 anche la possibilità di modificare aggiornare meglio precisare qualora magari ci sono stati differenti dimenti nella compilazione dei loro questionari i dati inseriti però mi sembra evidente che anche questo fa parte di questo mi auguro velocissimo Giovanni ricordiamo un'altra cosa che l'esito del censimento non determina necessariamente i PSN ma i PSN verranno definiti dal governo cioè si tratta solo di un passaggio intermedio che poi porterà la definizione del PSN quindi l'esito del censimento non è la nomina dei PSN purtroppo c'è stata confusione in passato assolutamente però scusami permettimi di correggerti un pochettino Paolo perché in realtà chi si legge con attenzione la famosa circolare 5 del 2017 potrebbe un pochino metterci in difficoltà in realtà l'articolo 2 che è quello che parla del censimento esplicitamente parla di una classificazione dove si parla di PSN però una classificazione non è una qualificazione all'esercizio D mentre l'articolo 4 dà un percorso per quanto ovviamente da perfezionare e da dettagliare abbastanza preciso di quello che segue dopo ecco io allora vorrei vorrei distinguere è importante distinguere questi due momenti il primo momento di classificazione semplicemente va ad analizzare i dati che sono stati forniti quello della qualificazione prevede non a caso un percorso di assessment un lungo un lungo probabilmente non troppo lungo è ovvio ma comunque un percorso molto dettagliato molto approfondito con dei momenti anche legislativi molto importanti che ci ricordava Paolo e quindi è corretto dire non confondiamo i due momenti benissimo grazie mille per questo chiarimento allora io direi di volgere a conclusione questo webinar Michele Melchionda non so se intanto per salutare Giovanni visto che siamo solo sfiorati e naturalmente i temi affrontati con Giovanni complimenti eh complimenti Michele che meraviglioso il tuo intervento imparo sempre con Giovanni abbiamo sfiorato mille temi tra cui non solo questo di Data Center chiaramente io vi ho raccontato un punto di vista quello di Giovanni e di Paolo ha una visione a 360 gradi che non non può ovviamente coincidere con quello di un mero esecutore verticale di un ambito noi abbiamo fatto un'interpretazione ovviamente come Corte dei Conti e e amministrazioni eh con noi associate abbiamo fatto delle scelte nell'ambito di un ventaglio di scelte e quindi noi abbiamo fatto delle valutazioni come eh singola amministrazione singola amministrazione che ha scelto un percorso quindi ha scelto un percorso probabilmente ehm questo per chiarirlo anche un po' a tutti quelli che ci ascoltano eh come in tutte le situazioni in cui certe scelte vengono fatte anche in anticipo rispetto a a diciamo alla strutturazione complessiva eh alcune le abbiamo anche eh indirizzate successivamente rispetto alle scelte nel senso io ho parlato eh di alcune attuazioni fatte da noi che sono partite prima del piano triennale che sono partite prima del censimento che sono partite eh prima di tutta una serie di iniziative alle quali poi eh sono d'accordo con Giovanni eh invece è corretto convergere nel senso che noi abbiamo fatto delle operazioni che erano state semplicemente eh attuate in tempi precedenti rispetto a questi percorsi quindi per certi versi possono apparire come non sovrapposte ma solo Michele Michele vorrei chiarire forse non l'ho chiarito lungi da me ogni forma di critica mia è una forma di apprezzamento se devo criticare e qui mi prendo molto presuntosamente mi scrivo mi pennello sulla fronte il nome Agid mi devo guardare un pochino allo specchio se devo fare una critica cioè la critica è dovuta al fatto che ancora magari non siamo stati capaci di ehm cercare di mettere insieme queste esperienze e eh e per certi versi non siamo nemmeno stati capaci di essere di affiancarci però Giovanni posso dirti lo penso seriamente sai che siamo tutti molto trasparenti ci siamo già incontrati altrove a me fa molto piacere perché quello che tu dici è vero lo sai anche che sono spesso anche molto critico è corretto dirlo intanto abbiamo un nuovo direttore quindi tutti ci ci auguriamo che faccia il suo percorso e sicuramente lo farà bene assolutamente fammi anche partecipare a questo augurio di buon lavoro sono contento invece di una cosa che nonostante tutto noi Agid team amministrazioni i numeri che Formez ci ha portato questa mattina qua intorno al tema testimoniano che tutto sommato alla fine c'è un grande movimento di interesse c'è grande attenzione e questo merita il lavoro ottimizzato di tutti e questo secondo me diciamo chapeau anche a Formez che ha accentuato il tema il lavoro di tutti ma permettimi noi abbiamo un ruolo un dovere un obbligo più forte forse un pochino più forte perché stanno e mettere insieme tutte queste realtà aiutare quelle e sono purtroppo la maggioranza lontanissime da da tante insomma da non dico dal punto di caduta del cloud ma insomma da questioni anche molto più preliminari primitive e questo è un grande compito Giovanni tu lo sai l'abbiamo fatto in passato sulla cyber security se pensi che Corte possa in qualche maniera collaborare con il nuovo tema siamo qua stai guarda tra un po' ti chiamavo per un altro aspetto quindi stai tranquillo che sei al primo posto della mia agenda per Samale per tua sventura ok Michele ciao va bene io vi ringrazio tutti per appunto la vostra franchezza sicuramente anche da una buona autocritica possono uscire risultati positivi quindi il fatto già che si stia formando una rete forte insomma sicuramente speriamo insomma che appunto si evolva una nuova epoca anche sulla spinta insomma del nuovo direttore generale di Agli certamente allora io vi ringrazio appunto ringrazio anche i nostri partecipanti che devo dire sono anche hanno dato appunto feedback positivi in chat sui vostri interventi scusate abbiamo qualche problema con le slide oggi non so cosa succede anche Connect fa i suoi grapedicci e ringrazio veramente tutti i relatori di oggi appunto e comunico ai nostri partecipanti probabilmente la prossima settimana ci sarà un webinar sui dati aperti quindi appunto quello che ti diceva Melchionda sull'importanza dei dati il Format ha lavorato da tanti anni su questo quindi state connessi su NTPA e vi aspettiamo per i prossimi webinar tutti martedì o quasi quindi a questo punto vi auguro buon pranzo grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti soprattutto i nostri preziosissimi interatori grazie saluto grazie a voi grazie a voi grazie a voi